Conti? Mi dica una cosa, professore, ma Conte dura con questi chiari di luna, i costruttori che si incontrano come carbonari? Non lo sento, non lo sento. Conte dura, potrà avere i numeri, ma non è la strada giusta. Ma qui ricadiamo nella semantica. Posso fare una breve domanda io a Goffredo Buccini? Eccomi. Sì, una volta c'erano le ideologie che orientavano la politica, poi le ideologie hanno anche provocato guerre. Sono cadute le ideologie, ma non si può inventare una parola che lascia in vita le idee. Perché siamo passati dalla politica delle ideologie alla politica senza idee. La parola c'è, secondo me, è Italia. O serietà. Anche Italia seria, se vuole. Italia seria. Possiamo fare un partito. E lei che coltiva la semantica, spero che si batterà, come ho cominciato a fare io, contro la corruzione della lingua italiana nel settecentesimo anniversario della morte di Dante, con l'uso di responsabile e costruttore, che sono due degnissime parole, per denotare figure che comunque sia... Allora, professore, facciamo un patto. Se fate un partito, lei, Buccini, Italia Serio, faccio la madrina, perché a questo punto ci voglio essere. Almeno dal notaio ci voglio essere. Va bene. Professore, torni a trovarmi presto, che mi è mancato parecchio in questo periodo. Si è dedicato a... Si vede, si vede. Si è un po' disabituata al rigore del ragionare. Ecco. Così. Così. Mi ha buttato così. Ma giù il conte. Va bene. Grazie. Grazie per il complimento, professore. Devo andare in pubblicità. Ci vediamo domani. Ma scusi, lei mi ha qualificato di copia di fatto con Sottocorona e che poi Buccini mi ama. Vuole fare una piccola smentita finale? Ah, vuole fare outing molti. Vuol dire che è etero. È sempre etero, lei? Elsa sta tranquilla? Per combinazione è qui. Elsa, me la faccia vedere. Ecco la giornata. Elsa, ma che piacere. Brava. Ci stava ascoltando, Enza. È una vita che chiedo di affacciarsi a Elsa. Va bene. L'ha fatta oggi... All'affaccio parco, mia moglie. All'affaccio parco. Va bene. Ho sforato, però c'era Elsa, ragazzi. Ci vediamo domani mattina.